Paolo distingue bene figli della legge e figli della fede. E per questo la Chiesa ci chiede a tutti noi alcuni cambiamenti. Ci chiede di lasciare da parte le strutture caducche. Non servono. E prendere altri nuovi, quelli del Vangelo. Non si può capire la mentalità, per esempio, di questi dottori della legge, di questi teologi farisei. Non si può capire la mentalità loro con lo spirito del Vangelo. Sono cose diverse. Lo stile del Vangelo è uno stile diverso, che porta alla pienezza la legge. Sì, ma in un modo nuovo. E il vino nuovo in otteri nuovi.